In occasione della mostra Modigliani a Napoli, la pizza Modigliani da Gino Sorbillo. Ora manca solo il pomodoro, vabbè? Fate una volta il pomodoro, sappiamo che è proprio divertente. Abbiamo tutta. Mi nevi il cellulare. Vabbè, vabbè, vabbè! Già, non c'è, non c'è, non c'è. Nadia! La priorità massima è questa cosa. Guardami, guardami. Perfetto. Vai, tranquillo, vai. Questa se vuoi la caccio io o no? Sì, sì. No, fai vedere la loro. Facciamo un elogio a Modigliani. No, no, no. Dai, vieni, vieni. È bella questa. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. È Modigliani. Indicatela a tutti, dai. È la mezza Modigliani. È una tavoletta da pittore con la ricotta al carbone vegetale, il San Marzano d'Occolo, l'olio a vino, ricotta al bufala. Indicatela, indicatela. Vieni qua, lo vi ho chiamato, è una vina, un po' bene. La pizza a Modigliani, la lamustra di Monigliani. Adesso, tutti di inizi? Guarda. La ricotta al carbone vegetale, ricotta al bufala, il Comodoro San Marzano bio, farina bio e olivo. una da solo grazie 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 grazie